sono iniziate i colloqui per Dicca mi tengo sempre aggiornati ragazzi la fuente la fuente la fuente guardate soffitto 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 7 di coppia cioè a tutti ragazzi quattro mesi fa allora ragazzi ogni volta devo fare un video devo farvi ripetere il video precedente le notizie si perdono allora regà ben ritrovati a tutti ancora una volta nel canale del vostro amico 7 di coppia e daie un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo se non sei iscritto al canale vi invito a iscrivervi al canale pollicione in alto e partiamo subito oggi andiamo a parlare della situazione di Dicca sempre di Firmino di Awar e di quello che sta succedendo la Roma stanno arrivando tante notizie ragazzi c'è molta carne su fuoco state sintonizzate allora ragazzi ci risiamo di nuovo ogni volta ogni video che faccio vi devo farvi vedere quello che le notizie che mi erano arrivate precedentemente vi ho fatto vedere i commenti e si tratta di quattro mesi fa prima dei mondiali la Roma aveva intenzione di fare in Dicca di precedere quello che succedeva durante il mercato perché in Dicca è un parametro zero ve l'ho parlato anche ieri e vi ho detto che c'erano anche altre squadre su Dicca perché è un giocatore e un difensore di Piede Mancino che interessa moltissimo alle top squadre in Europa perché i difensori di Piede Mancino ragazzi sono quelle più richiesti e non ce ne sono tantissimi sul mercato per quanto riguarda questo tipo di di giocatore perché ovviamente un difensore centrale di Piede Mancino se una squadra ce l'ha se lo tiene stretto però in questo caso Dicca non vuole rinnovare il contratto con l'Eintracht di Francoforte l'anno scorso hanno vinto l'Europa League quest'anno vuole una sfida molto più interessante vuole la Champions questo me l'hanno assicurato me l'hanno detto ragazzi la Fuente quando parla non sbaglia e i colloqui con Dicca non sono da adesso ragazzi sono da mesi la Roma sta provando a portare in Dicca a Roma a parametro zero precedendo ovviamente la concorrenza cosa c'è stato durante tutti questi mesi questi quattro mesi non è che in Dicca ha ricevuto solamente colloqui con la Roma o le avance dalla Roma c'è stato anche un avance da parte del Barcellona e proprio del Barcellona che in questi giorni ho parlato che si sta muovendo sul mercato nonostante paletti del financial fair play il Liverpool ci stava provando l'Inter addirittura ci stava provando con Dicca in caso Bastoni dovesse uscire ma non credo che Bastoni uscirà però l'Inter anche loro hanno voglia di prendere un difensore centrale e vedremo quello che succederà ragazzi non mi fanno sapere che è chiuso in Dicca questo ci tengo a sottolinearlo ieri anche nel video vi ho fatto il nome di altri difensori in Dicca non sarà nel primo nell'ultimo perché la Roma mi fanno sapere sta vagliando sia in Dicca come parametro zero ovviamente è un'offerta su cosa che la Roma non si può lasciare sfuggire ma ci sono anche altri giocatori che la Roma sta vagliando e non mi ve li ho fatti ieri Brandt White e Medina vedremo cosa succederà ragazzi dipende sempre dall'uscita questo ci tenevo a dirlo perché ovviamente la Roma deve fare anche l'uscita c'è con Bulla c'è la situazione di Banez molti mi hanno sottolineato il fatto di quanto Mourinho sia intenzionato a trattenere i Banez ma io vi ricordo sempre che i Banez molti dicono 25 a 20 lo diamo a 15 lo diamo a 30 se arriva lo diamo i Banez lo ripeto sempre ha una clausola di 80 milioni messa da Fienga e Pinto poi se la Roma vuol far rispettare quella clausola che ben venga ma se vedono che quella clausola ragazzi non conta niente perché nessuno sarà intenzionato a spendere 80 milioni per i Banez la Roma si può accontentare magari di mandarlo via di meno per rientrare un po' di soldi però io mi ricordo che qualche settimana fa qualche sedicente comunicatore mi veniva a dire o perlomeno ci faceva intendere del fatto che la Roma è costretta a vendere giocatori per rientrare nei paletti del Financial Fair Play no ragazzi non è costretta non siamo ai tempi di pallotta la Roma vuole fare una squadra vuole cercare di mantenere l'ossatura sta provando e sta cercando di trattenere Sbolling manca solamente la firma vuole trattenere Wijnaldum e anche questo ve l'ho detto vedremo molti hanno detto che rinnoverà il prestito a me non mi risulta che la Roma vuole rinnovare il prestito addirittura vuole cercare di comprarlo a titolo definitivo ma Wijnaldum deve abbassare un po' almeno l'enturace deve abbassare un po' le pretese per quanto riguarda lo stipendio Matic il rinnovo automatico è di questo ve ne ho parlato tantissimo perché doveva raggiungere il 50% delle presenze scattava il rinnovo automatico di un anno di contratto più uno extra ovvero se dovesse raggiungere il 50% delle presenze scattava questo rinnovo automatico e là ci siamo ragazzi e per quanto riguarda Di Bala ve ne ho parlato in lungo e largo la doppia clausola che ha Di Bala se arriva una squadra dall'estero che offre 12 milioni a decidere è Di Bala ad uscire dalla Roma la Roma vuole lavorare su questa cosa qua ci tengo a sottolineare le due situazioni fondamentali che la Roma vuole portare avanti nei suoi discorsi per quanto riguarda il prossimo anno è trattenere Smalling e Di Bala e poi per quanto riguarda il centrocampo Wainaldum lo sappiamo la Roma sta lavorando su Wainaldum durante questi mesi qua anche perché ha avuto un infortunio e sta cercando di trovare un accordo con il Paris Saint Germain magari cercando uno scondicino questo lo vedremo per quanto riguarda Andicca non mi risulta che sia chiuso ancora no ma la Roma ha cominciato a contattare l'entourage di Andicca quattro mesi fa magari se poi lo chiuderanno a breve questo lo vedremo ragazzi e a UAR manca solamente la firma le visite mediche sono state fatte al campus biometico di Roma quelle sono state proprio dal giorno alla notte non lo sapeva nessuno bravo che ha riportato questo scoop qua però le notizie sono queste a meno quelle che mi arrivano e quelle che vi riporto per quanto riguarda Firmino molti sto vedendo che stanno viaggiando su questa scia perché Firmino arriverà sicuro e non ho detto che Firmino arriverà sicuro io ieri ho detto la Roma è intenzionata ad offrire un contratto a Firmino di due anni più uno poi se arriverà lo vedremo il giocatore sta valutando e sta decidendo se vedere differenti club che sono interessati a lui e valuta le opzioni con il suo entourage non c'è solo la Roma su Firmino ho fatto l'esempio di tante altre squadre c'è anche Barcellona ci sono due o tre squadre della Serie A tra cui il Milan che deve rifare l'attacco e il Napoli che deve vendere Oseman e sta cercando anche un altro attaccante vedremo ragazzi quello che sarà poi oggi è uscito anche il nome di Zaha Zaha ve l'ho parlato negli altri video ragazzi la Roma non ha fatto nessuna offerta per adesso per adesso a Zaha Zaha ha avuto un interesse da parte dell'Arabia Saudita per 9 milioni ve l'ho riportato anche su Twitter ve lo lascio qua vi metto eccola la vedete e ve l'avevo detto in altri giorni che in pratica Zaha ha rifiutato l'offerta dell'Arabia Saudita e vuole vuole vedere se in Europa c'è qualche squadra che può offrire a limite quell'ingaggio ma io non credo che ci sia qualche squadra disposta ad offrire 9 milioni io non non lo so ragazzi avendo 9 milioni sul piatto non so la Roma come potrebbe interagire con l'entourage di Zaha visto che ci ha suppiatto questa offerta di 9 milioni e la Roma come fa ad avvicinarsi a questi 9 milioni deve assolutamente per far entrare Zaha deve uscire assolutamente qualcuno ma io non credo che Zaha sia l'obiettivo primario della Roma poi tutto può succedere ragazzi il mercato vi ricordo sempre è imprevedibile perché non è detto che adesso escono questi nomi e sicuramente la Roma prenderà questi nomi però quello di cui sono sicuro è che Murigno ha chiesto 3 top e ve lo ripeto sempre ragazzi la Roma si sta muovendo bene perché sta cercando di costruire qualcosa sin da subito sin da adesso che siamo ad aprile e quello che fanno le grandi squadre si muovono prima perché perché devono battere la concorrenza perché poi questi giocatori a parametro zero magari arriverà qualche altra squadra che per adesso si trova in una situazione che non può offrire niente a questi giocatori e la Roma vuole muoversi prima proprio per battere la concorrenza io sono più che convinto che la Roma farà un'ottima squadra il prossimo anno però quello che vi ricordo sempre è che la Roma non è costretta assolutamente a vendere perché quando sono uscite quelle notizie che la Roma è costretta a vendere Ebram è costretta a vendere i Baniats per i paletti del Financial Fair Play non è così ragazzi perché questi giocatori hanno avuto offerte dall'estero anche precedentemente che uscivano queste notizie qua quindi la Roma se dovesse cederli è per non idoneità tecnica vengono licenziati non perché la Roma deve rientrare i soldi sì deve rientrare i soldi ma non è costretta ragazzi non è che paletti del Financial Fair Play dice la Roma deve rientrare quei soldi quindi questi giocatori li devi vendere per forza la Roma ha anche altri giocatori che deve vendere e li abbiamo visti quelli che stanno in prestito adesso la lista è lunga e magari ci può uscire un bel tesoretto se la Roma venderà questi due giocatori è perché Murigno non li vuole sono licenziati ragazzi non idoneità tecnica questa è la situazione con questo vi saluto vi do appuntamento a stasera per la partita spero di fare una live mi trovo fuori come vedete ragazzi non sto a casa e spero di vedere la partita e di fare una live altrimenti ci vediamo direttamente domani per tutti gli aggiornamenti vi ricordo sempre di attivare schiacciare la campanella pollicione in alto commentino sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate e se siete d'accordo con quello che ho detto con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e dai forza Roma per stasera un saluto dal vostro amico 7D Coppe e dai grazie a tutti Grazie a tutti.